Si va da alcuni interventi nei quartieri periferici della città a strutture sportive con l'efficientamento energetico degli impianti e delle aree verdi circostanti, dall'arredo urbano sul lungomare alla riqualificazione degli edifici di edilizia popolare, di proprietà comunale, alla creazione di aree e spazi verdi e poi il recupero di alcune aree di capocolonna occupate da alloggi costruite abusivamente. Questo ed altro nel lungo elenco degli interventi che il Comune di Crotone realizzerà nei prossimi anni grazie ai finanziamenti ottenuti dai ministeri dell'interno, dell'economia delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. In tutto sul piatto ci sono poco più di 20 milioni di euro, idee e progetti che sono stati resi noti dal sindaco Voce e dall'assessore all'urbanistica Sor Giovanni. Abbiamo la riqualificazione del lungomare di Crotone che dopo tanti anni va rivista, abbiamo anche in campo interventi che riguardano l'area di capocolonna, è il villaggio confiscato già dal 2008 che già ce l'ha nello stato iniziale, quindi è un'area che è alle spalle del museo archeologico, del teatro, quindi quell'area va riqualificata, rifunzionalizzata, vanno demolite tutte le opere abusive che sono state realizzate nel corso degli anni, abbiamo oltre 35 unità abusive, è stato confiscato, vivono diciamo in modo illegittimo, purtroppo magari il bisogno li conduce ancora ad occupare quegli immobili, ma sono diciamo del patrimonio del comune di Crotone e siccome sono un blocco, un freno allo sviluppo del parco archeologico, quindi dobbiamo intervenire su quell'area che è un'alta valenza pure paesaggistica, oltre che archeologica. Progetti che la macchina amministrativa sta elaborando nonostante la carenza di personale, come spesso ricorda il primo cittadino, dal 2017 ad oggi sono andati in pensione oltre 100 dipendenti e ne sono stati sostituiti poco più della metà. Abbiamo assunto solo con i tecnici, otto istruttori tecnici col diploma, ma quasi tutti erano laureati, professionisti che lavoravano, abbiamo assunto quattro funzionari tecnici e quindi questo ci dà la speranza e la possibilità di partecipare dignitosamente ai bandi del PNRR. Un modo per cominciare a trasformare la città di Crotone, io l'ho detto dal primo giorno, il difficile è realizzare le opere, non far arrivare i finanziamenti.